mamma sono tornato dove sei stato? a giocare a poker ma nicolò lo sai che ora è? eravamo in pensiero uffa che palle ma mica lo decido io quando finisce la mano adesso però filanetto nicolò eh no non posso papà perché devo fare a pezzi un cadavere ma ti sembra una data sono quasi le due eh lo so ma non lo posso far passare liscia a chi non paga i debiti di gioco sì perché sennò poi se ne approfittano che siamo solo due bambini